E alla fine siamo arrivati anche a Troia, dietro alle mie spalle c'è il cavallo di Troia, quello sì, quello famoso, i turisti, i soldati, Cassandra, eccetera, eccetera, sì, proprio quello, e come vedete ci sono le persone che si stanno facendo la foto da stronzo, sono nel cavallo, onestamente andrò anche io a fare la foto proprio da turista fesso e nulla, ora ci avviamo a fare questa bella visita di questa città che si suppone si sia svolta questa battaglia, siamo anche equipaggiati di audioguida, quindi non ci manca proprio nulla, a dopo!